Musica Senza Sprar sarà più complicato gestire l'accoglienza dei migranti, a dirlo il sindaco di Sori Paolo Pezzana. I comuni che hanno detto no dovranno vedersela con la prefettura. Santo Stefano Daveto valorizza gli impianti sportivi, alvia un progetto per il campo di calcio e il bocciodromo. L'obiettivo è di attrarre turismo anche senza la neve. La morte di una persona è sempre una sconfitta. Le parole di Monsignor Paglia all'indomani dell'eutanasia attiva delle 39enne Fabiano Antoniani, un caso che interroga e divide. La genovese Cristina Ercolani è entrata nel Consiglio Generale dell'Ospitalità Notre Dame di Lourdes. L'associazione cristiana forma volontari per l'accompagnamento dei malati. Il villaggio basket vince in casa e scaccia la crisi. In Serie D battuto nettamente il Sanremo 88 a 50. Buongiorno ai telespettatori del TG13, bentrovati al nostro appuntamento con l'informazione. All'Assemblea Generale dei Sindaci Liguri, 64 primi cittadini hanno detto sì al piano ANCI sull'adozione del progetto SPRAR. 16 sono stati i contrari, 11 gli astenuti. Il tema è stato poi dibattuto ieri sera nel corso della trasmissione direttamente su, sul valore e i benefici di accedere a uno SPRAR. Vi proponiamo l'intervista al sindaco di Sori, Paolo Pezzana, che nel suo comune ha accolto da tempo alcuni profughi. Sentiamo. Quali sono i vantaggi degli SPRAR? Gestione diretta da parte del comune, maggior flessibilità nell'organizzazione delle attività progettuali, possibilità e garanzia di fare borse lavoro, strutture più piccole e controllate e un po' più di possibilità di scegliere le persone che vengono. Tutto questo nei CAS gestiti dalle prefetture tendenzialmente non è così semplice da ottenere. Chiamari, Rapallo, Recco, Carasco, Casarza Ligure, Moneglia hanno votato no, quindi hanno respinto per ora questo strumento dello SPRAR. Forse era da evitare muro contro muro e non andare a votare su questo punto? Ma sì, in realtà si è votato su un documento che diceva che non si faceva un piano regionale e che chi voleva fare lo SPRAR voleva fare lo SPRAR e chi voleva fare invece il CAS si teneva i CAS. L'assemblea di oggi è andata un po', probabilmente qualcuno si è lasciato un po' prendere la mano. Tuttavia i comuni che hanno deciso di non fare lo SPRAR si sono così candidati ad avere sul proprio territorio dei CAS perché i prefetti andranno ora proprio in quei comuni, apriranno le accoglienze che dovranno accogliere, non ci sarà controllo da parte dei sindaci, quindi i sindaci che hanno fatto questa scelta nei confronti dei loro cittadini si sono assunti proprio una bella responsabilità. Lei in trasmissione si è soffermato sul problema dei migranti che vanno a chiedere l'elemosina. In sostanza, per avere una corretta gestione di queste persone che arrivano sul territorio, che cosa è importante fare? Avere degli operatori che gli stanno dietro, quindi questi devono firmare un contratto di accoglienza in cui si impegnano a rispettare determinate regole, tra le quali ci deve essere quella di non chiedere l'elemosina perché è un comportamento che da molte persone non è gradito, anche se non sono molesti e poi ci vogliono dei progetti personalizzati dove c'è appunto lo studio della lingua, la formazione, l'inserimento lavorativo. Tutte cose già ampiamente sperimentate che dove ci sono numeri piccoli hanno dimostrato di essere non solo possibili ma anche molto utili per le comunità che le ricevono. Nel mio comune i ragazzi lavorano, fanno un lavoro molto buono, molto prezioso, molto utile e direi anche apprezzato dalla cittadinanza. E dopo essere stata allestita nei giorni scorsi a Rapallo, la mostra Migranti, la sfida dell'incontro è ora aperta all'Oratorio dei Filippini a Chiavari, sino alle 5 marzo. L'esposizione illustra, con l'ausilio di foto e video, il tema delle migrazioni dal punto di vista storico e sociologico. L'intento è di far capire a studenti, giovani e meno giovani, la ricchezza culturale che queste persone provenienti da varie parti del mondo possono donare. La mostra è aperta fino a venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18 e 30. Sabato e domenica gli orari saranno dalle 10 alle 12 e 30 e dalle 16 alle 18 e 30. Andiamo dall'entroterra adesso. La Val d'Aveto pensa ad un'alternativa alla neve per attrarre turismo. Dopo questi mesi disastrosi si cerca di valorizzare l'esistente. Nei prossimi giorni partirà in paese a Santo Stefano un progetto per la valorizzazione degli impianti sportivi. Sentiamo. Non stupiscono i 14 gradi di domenica scorsa a Santo Stefano nell'inverno che non c'è della Val d'Aveto. Le temperature non sono mai state davvero rigide quest'anno. Solo 15 giorni con il termometro sotto lo zero, di neve se ne è vista pochissima. Anche questa mattina il bue e la cipolla non sono andati sotto zero nonostante la giornata grigia. Una stagione disastrosa che ha causato disagio ai ristoratori e agli albergatori e che difficilmente potrà risollevarsi nelle prossime ultime settimane invernali. Il buono della stagione che si sviluppa prevalentemente dicembre, gennaio e febbraio, anche se negli ultimi anni eravamo ormai abituati a pensare alla neve in Val d'Aveto da metà febbraio in poi. Chiaramente qui abbiamo perso i mesi più importanti. Una neve tardiva a marzo non trova comunque le condizioni di un fondo preparato e quindi avrebbe una durata anche molto più breve. Ragioneremo solo sugli inquente. Gli amministratori della Val d'Aveto puntano a valorizzare l'esistente per richiamare turisti e appassionati. La soluzione della neve artificiale infatti non convince. La spesa di gestione è troppo alta e occorrono temperature ideali per mantenere il manto bianco. La giunta di Santo Stefano spinge per valorizzare i suoi impianti sportivi attraverso un finanziamento in conto capitale che l'amministrazione restituirà in 15 anni. Sta partendo proprio in questi giorni un progetto di riqualificazione di tutta l'area sportiva che vedrà una sistemazione del campo come fondo in modo da consentire campi estivi a squadre di bambini appassionati ovviamente di calcio. C'è una riqualificazione del bocciodromo che prevede la realizzazione di alcune opere da utilizzare sui 12 mesi e questo ci consentirà di poter dare offerte diciamo alternative in giornate di pioggia durante il periodo estivo e comunque un'offerta weekend invernale se non innevato. Il consigliere Giorgio Canepa di partecipativa ribadisce la propria netta contrarietà alla collocazione del nuovo depuratore di Chiavari nella zona del Lido chiedendo invece uno studio approfondito circa le dinamiche delle acque alla foce dell'Entella. L'installazione di un impianto di depurazione invece potrebbe provocare conseguenze al momento non ancora note e non sufficientemente studiate. In una nota Canepa ribadisce la posizione del suo gruppo con l'invito ad adeguare i depuratori esistenti piuttosto che insistere su un impianto che sorgerebbe accanto ad uno stabilimento balneare di grande pregio. E ormai sono trascorsi due anni da quando 360 pannelli fotovoltaici, il valore di quali sfiora i 100.000 euro, sono in stato di abbandono nel piazzale dell'impianto sportivo a San Martino di Cogorno. Notizia questa che troviamo anche sul nostro sito www.teleradiopace.com Lo denunciano i rappresentanti del Movimento 5 Stelle che chiedono spiegazioni al fatto che dopo aver speso 10.000 euro in consulenze sulla loro installazione e aver perso 30.000 euro l'anno per il loro mancato utilizzo, questi pannelli continuino ad essere lasciati abbandonati e inutilizzati. Voltiamo a pagina. Fabio Antoniani, noto come DJ Fabo, cieco e tetraplegico, in seguito ad un incidente di auto avvenuto tre anni fa, è morto in Svizzera dopo essersi sottoposto alla cosiddetta eutanasia attiva. Un episodio che, al di là del giudizio sul caso singolo, interroga ancora una volta le coscienze sul fine vita. Sentiamo il servizio di Radio Vaticana. Corri fine a una vita è sempre una sconfitta. Il commento di Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la vita, sulle polemiche per la mancanza in Italia di una norma sul fine vita, l'arcivescovo ha aggiunto, la legge non può per sua natura regolamentare situazioni così drammatiche, si rischia di creare la cultura dello scarto di cui parla il Papa. Sul caso singolo c'è grande tristezza. Sulla vicenda del fine vita si sta montando una facile strumentalizzazione sul fatto che l'Italia non sarebbe dotata di una legge. In realtà io direi che questo tipo di leggi significa disattendere il principio di solidarietà, che è un cardine della nostra carta costituzionale e allora accanto al dolore per questa vicenda non è accettabile che ci sia questa strumentalizzazione. Certamente il paziente quando la vita è fragile ha un dovere, potere di esprimere la propria volontà e i propri desideri. D'altro canto se passasse il principio che il medico, la struttura, lo Stato debbano sempre assecondare questa volontà si finirebbe per far ritenere alcune disabilità e alcune malattie come un peso per la società. Il rischio è che si attivi anche una visione della fragilità e della malattia o addirittura della disabilità come qualcosa di non più accettabile e questo davvero sarebbe un capovolgimento dei principi democratici di civiltà degli ordinamenti occidentali. Ci troviamo di fronte a una persona che chiede di morire e ci troviamo di fronte a una società e addirittura ad una classe medica la quale invece di aiutare la persona trasforma questo convincimento in un diritto e ne determina la morte. Quando ci troviamo di fronte a casi così drammatici e così dolorosi è anche fin troppo facile lavarsi la coscienza dicendo ma io faccio quello che vuole lui. La responsabilità è nostra che forse non sappiamo dare risposte di senso sufficienti a persone che certamente vivono condizioni di sofferenza estrema. La vita è il bene che fonda tutti gli altri diritti. Se cominciamo a violare la vita verranno uno a uno a cadere tutti gli altri diritti compreso il diritto di libertà. L'autodeterminazione deve avere un limite e il limite è quello della indisponibilità della vita umana. E oggi si celebra la giornata mondiale delle malattie rare. Un intervento del Presidente della Repubblica Mattarella che dice che nessun malato si senta invisibile o dimenticato. Leggiamo insieme l'agenzia ANSA. Nessun malato ovunque ma particolarmente nella nostra Repubblica deve sentirsi invisibili o dimenticato. E da come una società affronta i problemi di chi è più fragile, che si misura, la sua civiltà e anche la sua vera forza. I pazienti di malattie rare sono vulnerabili più di altri. Questo appunto è il passaggio dell'intervento del Capo dello Stato Sergio Mattarella in occasione della giornata mondiale delle malattie rare. E l'Ospitalité di Notre Dame di Lourdes è un gruppo di volontari cristiani che segue l'accoglienza e l'accompagnamento dei pellegrini a Lourdes. Per entrarne e farne parte è necessario un periodo di formazione di quattro anni nel corso del quale si approfondisce sia, come prendersi cura degli ammalati, sia la spiritualità legata al Santuario Mariano. Recentemente nel Consiglio Generale dell'Associazione è entrata la genovese Cristina Ercolani. L'ha intervistata per noi Michela Di Leo, della redazione del Cittadino di Genova. Ascoltiamo. Ci può spiegare meglio che cos'è l'Ospitalité? L'Associazione, l'Ospitalité è attiva nel santuario nella stagione più intensa dei pellegrinaggi che parte dal periodo di Pasqua fino più o meno alla fine di ottobre. L'Ospitalité Notre Dame de Lourdes è un'associazione di volontari cristiani che sono impegnati nell'accompagnamento e nell'accoglienza di migliaia di pellegrini con particolare attenzione ai pellegrini disabili e agli ammalati. I volontari dell'Ospitalité si chiamano Hospitalier. La mia esperienza con l'Urd si è iniziata direi abbastanza presto in quanto avevo solo i 17 anni la prima volta e con gioia posso dire quest'anno che dalla mia prima volta sono passati 40 anni. Come si può appartenere all'Ospitalité? Per appartenere all'Ospitalité, in Sena all'Ospitalité esiste una scuola che noi chiamiamo Stage, che è una scuola di formazione che dura 4 anni, in cui è compresa una parte pratica e una parte invece che dà una visione, una panoramica della spiritualità, di quella che è la spiritualità di Lourdes e quello che è il messaggio di Lourdes. Al termine dei 4 anni, il quinto anno, il candidato, la persona che ha frequentato regolarmente, può fare una domanda di impegnarsi definitivamente nell'Ospitalité, il che comporta però che la persona deve ogni anno prestare servizio al santuario per almeno una settimana. Nell'abbraccio del Signore si è abbandonata Maria Luigia Rocca in Sanguinetti, popolarmente conosciuta come Mariuccia, discendente da una famiglia molto conosciuta a San Pier di Canne, ha vissuto gran parte della sua vita nel quartiere di Rupinaro, insieme al marito Pippo Sanguinetti, fondatore dell'omonima azienda di Lignami. Mariuccia aveva 85 anni e da qualche tempo era sofferente a causa di una grave malattia vissuta con fede e il sostegno di tutti i familiari. Era una donna semplice e disponibile, molto attiva nella parrocchia di San Giacomo, dove aveva svolto vari servizi per la comunità. Negli ultimi anni, come componente del gruppo anziani, si dedicava alla realizzazione delle palme pasquali, passione che ci aveva illustrato alcuni anni fa nel cammino di preparazione alla Santa Pasqua. Mariuccia lascia il marito, Pippo Sanguinetti, sempre al suo fianco anche nel momento della sofferenza, i figli Lorenzo e Giacomo, insieme alle rispettive famiglie, i nipoti Antonio, Beatrice, Maria, Federica, Matilde e Tommaso, il fratello Adriano e i parenti tutti. Il Santo Rosario in suo suffragio sarà recitato questa sera alle 19 nella chiesa di San Giacomo di Rupinaro, dove mercoledì alle 11 ci saranno celebrati i funerali. La carasalma sarà poi tumulata nel cimitero di Magena. Le offerte raccolte durante la celebrazione saranno devolute al villaggio del ragazzo. Ai familiari va la vicinanza nella preghiera e l'abbraccio da parte di tutto lo staff di Telepace. Linea adesso alla rassegna stampa per vedere i titoli dei giornali in edicola quest'oggi. Ci rivediamo dopo per altri aggiornamenti e servizi di sport. Avvenire titola Fabo, una tragedia che fa male e divide. Il giovane DJ tetraplegico e cieco accompagnato da un radicale che poi si autodenuncia, scienza e vita, diciamo no, all'eutanasia di Stato. Inchiesta, la morte facile oltre confine con 10.000 euro, il racconto io accanto lui per due anni poi ha mollato. Francesco pensa all'Africa sofferente, i copti nel mirino, l'auspicio di viaggi in Sud Sudan ed Egitto, l'annuncio fatto ieri. E poi usato come cavia ora diventa beato, Don Titus Zeman fu vittima del regime comunista e ciecoslovacco. All'interno di avvenire atrocità dei jihadisti nel Sina, il Al-Sisi task force per i copti e un collaboratore giovane musulmano bruciato vivo. Fatto del tutto inedito, il presidente ha ordinato la creazione di un gruppo speciale per gestire l'emergenza dei cristiani in fuga dal Daesh, massima accoglienza. Secolo XIX, migranti in Liguria, rottura tra i sindaci, salta l'accordo sull'accoglienza, decideranno i prefetti. E poi la foto della gaff del vincitore dell'Oscar, una gaff da Oscar, Moonlight, miglior film, e invece Warren Beatty proclama La La Land, a secco invece fuocamare. Il nuovo cinema statunitense dell'ala Trump. Cassano dice no a Lentella, ma il Levante ci spera ancora. Poi l'indagine ha arrestato il padre della bimba coltellata nella casa di Chiavari. Nel Levante del secolo XIX, migranti no dei sindaci all'assemblea Anci. Gli amministratori del Levante rifiutano lo Sprara. Non ci fidiamo delle politiche nazionali. Santa e Cogorno votano a favore, Donadoni solo un orientamento. Astenuti, Zoagli e Portofino. E ancora all'interno del secolo XIX da Rapallo. La polizia locale trasloca piano terra più vicino alla gente. In piazza Monfino presidio per la sicurezza. Domani, dopodomani, il trasferimento con qualche possibile disagio. Spazi anche per la protezione civile, in particolare per il centro operativo misto, cioè il COM. Ora per vedere se ci sono aggiornamenti. Andiamo in redazione. Pronto, Maurizio Garrefa. Grazie Andrea. Buongiorno a tutti. Un flash di cronaca. Aveva in casa un grammo di eroina, una modica quantità di hashish, 4 grammi di semi di marijuana, un bilancino di precisione e 253 euro in contanti. Un quarantenne di Rapallo, che aveva già alle spalle precedenti analoghi, è stato per questo denunciato dai carabinieri. Per lui l'accusa è di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. La droga è stata sequestrata. E tutto a te Andrea. Alcuni appuntamenti per il prossimo fine settimana. Il gruppo Folk Sestieri di Ri, in collaborazione con la parrocchia dei San Giuseppe dei Piani di Ri, organizza per sabato alle 14.30 in Piazza San Fronto a Chiavari, la bambineide e la rottura della pentolaccia. Divertimento e caramelle per tutti. In caso di pioggia la manifestazione si svolgerà nei locali sotto la chiesa. E il comitato fuochi della parrocchia di San Maurizio di Monti e Rapallo organizza la pentolaccia di carnevale. L'appuntamento è per domenica 5 marzo a partire dalle 12 nell'area ludico-sportiva della comunità. La festa inizierà con un buffet e con i giochi. La rottura della pentolaccia sarà alle 15.00. La festa si svolgerà anche in caso di pioggia e l'ingresso è libero. Veniamo adesso allo sport. Toccherà al signor Marco Serra di Torino dirigere Vicenza Entella. Settima giornata di ritorno del campionato di Serie B. I chiavaresi, dopo la vittoria casalinga con il Carpi, scenderanno in campo alle 20.30. Da parte di Mister Breda l'invito a non sottovalutare gli avversari. Sentiamo. Ottimi segnali dalla difesa, due partite senza subire gol. Sì, anche se poi ogni partita si rimette tutto in discussione ogni volta perché il Vicenza è una squadra che non sta passando un bel momento, però credo che questo non è una cosa positiva per noi. Anzi, è una squadra che farà di tutto per ottenere il risultato pieno. Ha dei giocatori in ogni caso di qualità. Vedi Giacomelli, De Luca, Signori, Rizzo. Insomma, sono tanti giocatori importanti e quindi dobbiamo fare la partita giusta con la intensità e la cattiveria giusta e cercare magari di mettere in difficoltà, però anche giocando su quello che possa essere lo stato emotivo. Dobbiamo dare continuità al risultato, dobbiamo da certi punti di vista già scordarci la partita di Carpi e pensare a fare il massimo per quella di Vicenza che diventano tre punti veramente importanti. Abbiamo detto da rinnovata comunque tranquillità della difesa, zero col subiti, ma l'importante comunque ci siano Caputo e Catellani che stanno dimostrando davvero una grande intesa. Ebbene, è ancora poco che lavorano assieme perché prima uno poi l'altro ha avuto qualche acciacchino in settimana, quindi hanno solo bisogno di tempo. Proprio credo che a dia di tutto quanto il loro apporto va inserito in una squadra che li cerca, che poi dopo siamo squadra, non è che c'è solo loro due. Certamente sono due giocatori importanti, sabato hanno fatto due gol superlativi, poi dopo c'è tutto il resto che non l'ha mai dimenticato. Tanti impegni ravvicinati, stai studiando una sorta di turnover o ti affidi ai giocatori che hanno fatto bene. Vediamo. Veniamo adesso al basket. Nell'ultima partita di Serie D maschile, il villaggio abbattuto in casa al Sanremo, 88 a 50. Per la squadra del Tiguglia un passo avanti in chiave salvezza. Sentiamo le interviste a fine gara. Due punti che danno morale a tutto lo spogliatoio, a tutta la squadra. Ma avendone presi 97 all'andata contro questa squadra qua, abbiamo pensato che forse per portare a casa due punti dovevamo difendere. Abbiamo pensato all'inizio a limitare il loro punto di forza, che è Bonino, numero 9. Abbiamo lavorato duro su di lui per non fargli prendere mai la palla e lì abbiamo vinto la partita perché poi la differenza si è vista e ci può essere abbastanza abbondante. Però allo stesso momento in casa, da loro, la stessa partita, noi passivi abbiamo difeso meno e abbiamo preso 97 punti. Quindi dobbiamo metterci in testa che se vogliamo fare i risultati, entrare nel lotto dei play-off e dar fastidio a tutti e dobbiamo riprendere come abbiamo fatto a difesa. Hai messo almeno quattro bombe, ti sentivi molto caldo stasera, eri in giornata. Sì, diciamo che la maggior parte dei tiri non erano a coefficiente altissimo, nel senso che avevo due metri buoni quindi avevo anche il tempo di prendere la mira, però sì, indubbiamente è andata bene stasera. Non sempre riesco a segnare con continuità da fuori, quindi quando ci riesco mi agevola molto. Una trasferta difficile, eravate in sette, si aspettava di più o secondo lei i suoi ragazzi hanno dato tutto ciò che potevano? Sicuramente i ragazzi vanno sempre ringraziati per l'impegno che ci mettono. Stasera non abbiamo giocato, abbiamo iniziato la partita con la testa da un'altra parte, il risultato è quello. Sono tutti ragazzi del 2000, un 99, un 97. Non mi posso lamentare del loro impegno, veniamo dalla vittoria nel derby a Imperia, quindi voglio dire, stasera non abbiamo giocato, il villaggio è gestato superiore in tutti i reparti. Non è questa la mia squadra, spero di non rivederla più questa squadra qua. Ed è in programma sabato prossimo, 4 marzo, la terza edizione del Fontana Buona Cup, torneo di subute o a coppie in favore della scuola materna Santa Caterina di Gattorna. Le gare si disputeranno proprio all'interno dell'asilo parrocchiale, dalle 14 alle 19. Sono previsti 36 partecipanti in rappresentanza di tutti i club della Liguria e alcuni anche della Toscana. I giocatori utilizzeranno per le sfide le miniature che sono la fedele riproduzione delle squadre locali, dal Moniglia al Moconesi, i vincitrici delle prime due edizioni, dal Cornia alla Calvarese passando per il Rial Fieschi, il Riva Samba e tante altre squadre. Oltre al torneo ufficiale si svolgerà un torneo per principianti. L'intero ricavato dell'iniziativa promossa dai cavalieri di San Giorgio, Moneglia e Subuteo verrà devoluto per sostenere la scuola materna di Gattorna. Adesso andiamo nello studio 2 al termine della rotazione del TG13, una nuova puntata del Buon pomeriggio quest'oggi con Emanuela Castello. A te la linea. Grazie Andrea, buongiorno a tutti. Nel nostro appuntamento con l'approfondimento pomeridiano parleremo di turismo e lo faremo andando nel parco di Portofino assieme ad una delle sue guide escursionistiche per parlare della prossima riapertura del centro visite delle batterie. Poi un approfondimento dedicato ai nuovi corsi che l'Accademia della Marina Mercantile avvierà Villa Spino Lagrimaldi a Lavagna con il Presidente dell'Accademia Eugenio Massolo e infine è anche un approfondimento dedicato alla giornata delle malattie rare che si celebra proprio oggi. In realtà la giornata sarebbe il 29 di febbraio, un giorno raro evidentemente che cade ogni 4 anni, però si celebra oggi in questo 2017 la giornata per le malattie rare. Ci sarà un appuntamento a Sestri Levante sabato prossimo, ne parleremo con la Presidente dell'Aisa Maria Litani. Infine, il consueto spazio dedicato ai corsi di lingua e cultura genovese di Chiavari, oggi ospite Cesare Dotti. Ci vediamo al termine della rotazione del Tg13. Bene, grazie ed è tutto per questa edizione del Tg13. L'informazione torna questa sera a 19.15 con la prima edizione di Tguglio Oggi. Tutte le notizie le trovate sul nostro sito internet e teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.